Viaggio nell'Italia Sacra, straordinaria e misteriosa con l'ultimo libro del giornalista Luigi Ferraiolo, edito dalla San Paolo, che è stato presentato a Napoli in un incontro moderato dalla giornalista Vittoria Biancardi. Un romanzo di viaggi, una guida all'avventura per scoprire il genius loci di quello che visitiamo, grazie allo sguardo attento dell'autore, persona di cultura competente e curiosa, che ci parla del volume. L'Italia Sacra, straordinaria e misteriosa, è in realtà il cuore vero dell'Italia, quella più genuina, quella più verace, dei riti, delle tradizioni, delle abitudini e dei misteri che non conosciamo, cioè il camminare da flaner in una città o in un bosco, però con la testa rivolta all'insù e guardare quindi i tetti, cioè quello che di straordinario c'è anche accanto a noi e che noi spesso non vediamo perché siamo presi dai mille problemi della vita quotidiana, dal tran tran che ci chiude gli occhi, ci un po' omologa e ci schiaccia tutti quanti. Come ai tempi del Grand Tour, nel libro di Ferraiolo non poteva mancare un pizzico di Francia, come racconta Maria Giovanna Petrillo, docente di lingua e letteratura francese all'Università Partenope. A cominciare in effetti dalla citazione iniziale, da Cittadella di Antoine de Saint-Exupery e poi Luigi comunque intermezza anche questi Voyages en Italie, de De Sade, de Dumas, de Guy de Maupassant. Il libro si muove tra siti, riti e tradizioni, dalla tomba di Dracula alla Madonna dell'Andrangheta che nelle parole di Ferraiolo diventano un formidabile attrattore di flussi turistici, come conferma Marta Catuogno, imprenditrice del settore alberghiero e vicepresidente di Federalberghi Napoli. Vogliono vedere tutta questa parte sacra, realtà che forse è poco conosciuta dai cicli turistici tradizionali, però molto molto richiesta. La presentazione del volume di Ferraiolo è anche l'occasione per scoprire la galleria Andrea Nuovo Home Gallery, spuntata a Napoli pochi anni fa in una bellissima casa di Monte di Dio, gestita dalla storica dell'arte Fernanda Garcia Marino. Siamo una home gallery proprio perché abitiamo qua in sede, quindi la maggior parte dello spazio è dedicato all'arte, alle mostre, alle esposizioni, ma anche a eventi come questo.